Musica Benvenuti al TG6 L'Aquila, oggi apriamo parlando della visita del ministro dei beni culturali Dario Franceschini che ha tenuto a battesimo la riapertura del Museo Civico d'Abruzzo ha riaperto i battenti infatti a Borgo Rivera nei locali dell'ex mattatoio il servizio Alla presenza del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha aperto le porte il Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo nella sua nuova sede nell'ex mattatoio comunale all'Aquila completamente ristrutturato e ripensato per questa sua nuova funzione lavori di ristrutturazione all'avanguardia per le tecnologie antisismiche è un percorso di grande fascino con una selezione di oltre 100 opere tra sculture, pale, opere linee, dipinti ed arte orafa tutte opere d'arte restituite agli Aquilani ma anche a tutta la comunità internazionale un evento emozionante infatti non solo per l'importanza del progetto museografico e museologico per l'eccellenza dei lavori strutturali e di restauro per il valore storico-artistico delle opere esposte ma anche e soprattutto per il significato che esso assume per la città dell'Aquila opere a lungo rimaste invisibili ed ora tornate in uno spazio museale voluto proprio dal Ministero per i beni culturali per dare un forte segnale di ripresa in attesa del pieno recupero del Castello Cinquecentesco sede storica del museo profondamente ferito dal sisma quando riapre un grande museo è sempre un giorno di festa quando poi un grande museo come il Museo Nazionale d'Abruzzo riapre all'Aquila è doppiamento una giornata di festa perché è una restituzione alla città, è una restituzione al paese è una battaglia vinta con un museo che riapre con opere straordinarie con una bellissima collezione in un allestimento nuovo che consente anche di esporre opere che non erano mai state esposte nella precedente sede davvero è un pezzo importantissimo della ricostruzione dell'Aquila e della restituzione dell'Aquila e del suo patrimonio a tutto il mondo questo è un museo di rilevanza europea è un museo che racconta della grande arte della grande arte finora assolutamente sconosciuta poco nota, poco studiata, poco apprezzata, poco compresa ed è per me un grandissimo motivo di orgoglio oggi mostrare finalmente questi capolavori che ho avuto modo negli ultimi sei anni di esibire a piccole mostre tematiche che ho portato un po' in giro ma adesso vederli qui riuniti assieme ad altre opere che sono appena tornate dai laboratori di restauro, dai depositi per me è un motivo di orgoglio veramente grandissimo ora la cronaca era stato arrestato per atti persecutori ma continuata ad infastidire la sua ex fidanzata e per questo gli è stato imposto un nuovo divieto di avvicinamento è accaduto a un 36 anni aquilano residente nel comune di Luccoli non potrà più avvicinarsi alla sua ex, anche lei aquilana residente invece nella frazione di Tempera il 5 gennaio scorso l'uomo era stato arrestato in fragranza di reato mentre fuori della casa della donna aveva dato in escandescenza costringendola a difendersi addirittura con un coltello tempestivo l'intervento dei carabinieri della stazione di Pagani che ha guidati dal maresciallo Nunzio Gentile che hanno evitato il peggio in quell'occasione la giudiziaria con l'inchiesta su Ecosfera 9 rinvii a giudizio l'operazione, la ricorderete, è quella denominata Caligola che ha coinvolto la società Ecosfera e la regione Abruzzo su presunte assunzioni clientelari in cambio di appalti pilotati il processo ci sarà nel maggio prossimo i particolari nel servizio 9 persone rinviate a giudizio dal gruppo del Tribunale dell'Aquila Domenico Canosa nell'ambito dell'inchiesta Caligola che coinvolse la società Ecosfera e la regione Abruzzo su presunte assunzioni clientelari in cambio di appalti pilotati le indagini della squadra mobile di Pescara causarono un vero e proprio terremoto in seno all'ente regionale con 7 misure cautelari nel gennaio del 2012 il processo ci sarà nel maggio prossimo in dibattimento andranno Duilio Gruttadauri allora presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di Ecosfera la moglie Anna Maria Teodoro ex socio di Ecosfera Lamberto Quarta ex consulente della società ed ex capo della segreteria dell'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco Giovanna Andreola ex dirigente del servizio attività internazionali della regione il marito Michele Galdi ex consulente di due società che secondo i PM sono riconducibili ad Ecosfera Corrado Troiano socio della società Cyborg Mario Gai ex vicepresidente dell'osservatorio interregionale cooperazione e sviluppo Camillo Cesarone ex capogruppo del PD in consiglio regionale e Domenico Peca ritenuto dai giudici presta nome per alcune attività di Ecosfera stessa è stato prosciolto invece dalle accuse Bernardo Notarangelo già presidente della commissione di gara relativa all'appalto contestato dalle indagini il 118 del nosocomio aquilano ha una nuova ambulanza che arricchisce il parco macchine già a disposizione a breve verranno inaugurati anche i locali ristrutturati del delta chirurgico Filippo Tronca ci racconta tutto il pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila si arricchisce di una nuova ambulanza trazione 4x4 è il terzo mezzo acquistato quest'anno dall'azienda sanitaria per rafforzare l'intera flotta del 118 operante in tutta la provincia dell'Aquila l'ultimo veicolo per il soccorso che approda il grande garage dell'azienda è stato consegnato con tanto di benedizione del vescovo Giuseppe Petrocchi però semimilmente entro il primo quadrimestre del 2016 poi arriveranno altri sette mezzi di soccorso previsti dalla gara europea che la regione sta per avviare per tutto l'Abruzzo una soddisfazione senz'altro per il direttore generale Giancarlo Silveri che a gennaio lascerà l'incarico martedì poi sarà inaugurato anche il delta chirurgico del San Salvatore completamente ristrutturato e con i reparti che hanno meritato l'incomio ministeriale di ossetrice e ginecologia abbiamo oggi con queste ambulanze implementato il parco delle ambulanze quattro sono già state comprate e sono in funzione in questi ultimi anni sette sono in ordine e arriveranno nei prossimi due o tre mesi la magica casa di Babbo Natale per i bambini Aquilani nel primo palazzo del centro storico restituito alla città Palazzo K. Cappelli in corso Vittorio Emanuele nel periodo natalizio i bambini Aquilani potranno incontrare nella sua magica casa Babbo Natale e anche invucare la letterina indirizzata a Santa Claus nella speciale Cassetta delle Poste e domenica arriverà anche un ospite speciale la vera renna di Babbo Natale la renna Rudolf e il servizio nel centro storico dell'Aquila sul corso si è aperta la porta della casa di Babbo Natale un ufficio per ricevere le letterine dei più piccini uno spazio dove il vecchio barbuto possa riposarsi dai frenetici viaggi per la consegna dei doni tutto intorno a un bellissimo albero addobbato di luci per la festa dei piccoli aquilani c'è Babbo Natale in persona in questa casa di Babbo Natale insieme all'Unicef che scopo ha questa iniziativa? un grande scopo siamo dalla parte dei bambini e siamo pronte sempre a lottare per loro oggi abbiamo scelto questa giornata per promuovere i valori dei nostri bambini che vengono seguiti tutti i giorni intensamente dal nostro Unicef che cosa potranno fare i bambini qua? che cosa riceveranno? i bambini riceveranno un dolcetto da Babbo Natale e il magico timbro di Babbo Natale daremo tanti regali a tutti i bambini tante speranze Buon Natale e ora la pagina sportiva con l'Aquila Calcio a Lucca oggi per continuare a vincere importantissimo impegno in chiave e salvezza per l'undici di Mister Perrone che dopo l'importante vittoria ottenuta in casa lo scorso sabato non vuole interrompere la striscia positiva e vuole soprattutto chiudere l'anno in bellezza Ultima partita del 2015 per l'Aquila di scena a Lucca nel penultimo turno di andata del girone B di Lega Pro i rosso-blu di Carlo Perrone reduci da tre vittorie di fila nelle ultime tre gare in casa cercheranno di invertire la rotta lontano dal fattori dove hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre uscite l'occasione per chiudere con il botto in 2015 in crescendo è di quelle da non fallire soprattutto perché il match contro la Lucchese sarà un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza sul fronte formazione dopo l'ipotesi 3-5-2 nelle ultime ore sono salite le quotazioni di un passaggio a 4-4-2 così da impiegare Tommaso Ceccarelli da esterno d'attacco e allo stesso tempo rimediare all'assenza forzata di Salvatore San Domenico causa squalifica il centrocampo sarà completato da Manuel Mancini da De Francesco e da Triarico sull'out di sinistra in attacco dovrebbero partire di nuovo entrambi dall'inizio sia Raffaele Perna che il capitano Claudio De Sousa appuntamento alle ore 17.30 allo stadio Porta Elisa di Lucca e con lo sport termina il nostro TG6 l'Aquila io vi ringrazio per averci seguito continuate a seguire TV6 per la consueta programmazione arrivederci a l'Aquila a a l'Aquila a l'Aquila 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 a l'Aquila Grazie a tutti.